Buonasera a tutti con le chiesi, siamo qui in piazza per accendere l'albero di Natale. www.moranoleggi.com Noi abbiamo la fortuna di avere questo grande cedro nel Libano, in piazza, e qui non abbiamo bisogno di tagliare alberi. Qui è sempre lì, c'è una bellissima pianta che ascolta tutte le voci di tutti i cittadini. E fra porto accenderemo le luci. E tra l'altro, come regalo per i cittadini di Collegio, abbiamo una voce molto particolare stasera, la voce di un tenore, Lorenzo Marchi, con le chiese, che ci allietterà con dei canti natalizi. Ecco, quindi l'albero ascolterà anche questa voce, come tutti noi. Noi vi ringraziamo insieme a Claudio Illani della Proloco e vi auguriamo un buon ascolto. Ci vediamo con l'accensione dell'albero. WALFER, elettromeccanica, automazione e impianti elettrici. Bravo! Bene! Bravo! Che bella! Bene, questo anno un po' particolare, sono luci che hanno un significato particolare per tutti noi, per tutti noi, perché ci danno un segno di speranza, quella di cui abbiamo bisogno, sperando in un prossimo anno migliore di questo. E con questo passiamo alla voce di Lorenzo. Elettrotaro Fornovo, televisori, elettrodomestici e tanto altro. Alla mente confusa di dubbio e di dolore, soccorio mio signore, col raggio del... Alla mente confusa di dubbio e di dolore,